Salvini e Ceccardi, Ceccardi e Salvini, la squadra che ha portato la prima bandiera sovranista in Toscana alza il tiro e punta al bersaglio grosso della regione. La Leonese di Cascina ha ricevuto l'investitura ed è pronta a far partire la campagna elettorale. Mai mi sarei immaginata quando ho cominciato la mia battaglia politica, poco più che ventenne, di essere poi un giorno la prescelta per sfidare il centro-sinistra in Toscana. Tanti monopoli, anche politici, sono caduti nel corso della storia. Prima o poi cadrà anche quello toscano. Non so se sarà questo l'anno decisivo, ma noi ce la metteremo tutta perché lo sia. Abbiamo ascoltato le imprese in questi lunghi mesi di lockdown, le abbiamo ascoltate nella fase della ripartenza e vogliamo ascoltare anche oggi per progettare insieme la Toscana del futuro. Sono andati a posto i pezzi del puzzle fitto. In Puglia, Caldoro e in Campania, così il leader del carroccio ha potuto presentare di persona l'alfiere leghista in Toscana. Una trattativa che ha lasciato qualche strascico. Adesso c'è da convincere gli alleati prima degli elettori. Se ci fossimo impuntati avremmo diviso il centro-destra. Se per la prima volta c'è una possibilità vera di cambiamento grazie a una coalizione ulita in Toscana, in Puglia e nelle Marche, sono tre regioni a guida di sinistra da tanto tempo, è grazie alla scelta della Lega e anche alla scelta di Susanna. Poteva stare comodamente e tranquillamente a Bruxelles dove i toscani l'hanno mandata l'anno scorso. A noi leghisti non piace la vita comoda. Gireremo tutti i comuni della Toscana per proporre un'idea di Toscana fondata sulla buona amministrazione. Susanna è stata un bravissimo sindaco che ha cambiato da così a così i destini del suo paese. Mi piacerebbe che alle chiacchiere della sinistra, che qua governo ormai da 40, 50, 60 anni, si è perso il conto, si contrapponesse la concretezza di un buon sindaco. E se il nome per le elezioni regionali è finalmente arrivato e da qui questa sera parte la campagna elettorale, per le elezioni comunali nella vicina Viareggio quel nome ancora non c'è, anche se arriva una mezza conferma che sa tanto di investitura. Sicuramente di Barbara in più di uno a Viareggio mi hanno parlato bene, quindi ragioniamo non per partecipare. Per la prima volta a Viareggio non si gioca per partecipare ma per vincere.